Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qua sul canale di Counter Strike Italia, io sono sempre il Blase e quest'oggi sono qua per annunciarvi i nostri server della comunità di Counter Strike dandovi ovviamente i nostri indirizzi IP e spiegandovi le modalità presenti. Per ora disponiamo di ben 5 server della comunità e offriamo le seguenti modalità il Retake, l'Arena 1v1, un server fan competitive e il KZ. Il Retake è una modalità veramente molto utile per allenarsi appunto a fare il Retake che è quella situazione di gioco in cui gli antiterroristi si trovano a dover riprendere il bombsite dopo che è stato già preso precedentemente dai terroristi che hanno già piazzato la bomba quindi in questa modalità i terroristi sponeranno già in sito di A o di B e dovranno solamente plantare la bomba intanto gli antiterroristi si sponeranno un po' sparsi per la mappa e dovranno appunto cercare di far fuori tutti i terroristi o comunque dovranno disinnescare la bomba se gli antiterroristi vincono anche solo un round le squadre si invertiranno quindi i giocatori che erano prima antiterroristi passeranno terroristi e viceversa ma se sono dispari, visto che il Retake si gioca 5 antiterroristi e 4 terroristi al massimo, se gli antiterroristi saranno dispari, quindi 3 non passeranno tutti dal lato terroristi ma solamente i giocatori che hanno contribuito di più al fine di far vincere il round quindi quelli che hanno più kill, più defuse e più assist ma dovete sapere che le kill contano più dei defuse e degli assist se invece i terroristi vinceranno ben 7 round consecutivi le squadre si mischieranno così da dare la possibilità anche a quelli che hanno comunque perso 7 round di fila di provare l'ebbrezza di vincere qualche round per quanto riguarda l'arena 1v1 è come se fosse una mappa, un pezzo di mappa suddiviso in 28 arene e in ogni arena ci sono situati due giocatori, un terrorista e un antiterrorista e dovranno avere la meglio l'uno sull'altro questa modalità offre la possibilità di scegliere di abilitare i round only coltello, solo pistole round solo con la vp e round normalissimi con il fucile d'assalto e la pistola cosa è molto importante è che se noi giochiamo un pistol round e non avremo la pistola di default come potrebbe essere una ysps, una p2000 e una glock il server non ci provvederà di alcun kevlar mentre se invece prenderemo o sceglieremo una di queste tre armi principali otterremo un giubbotto antiproiettili ma attenzione non avremo comunque l'elmetto quindi un colpo in testa ci ammazzerà nella maggior parte dei casi la pistola che noi scegliamo viene utilizzata sia nei round di avp sia che per i round normalissimi con il fucile d'assalto fucile d'assalto che anche esso può essere scelto tra m4 a1, m4 a4 e ak47 vincendo solo uno scontro uno contro uno ci farà passare dall'arena successiva e di conseguenza quindi perdendo ci farà scendere all'arena precedente dovremo quindi fare una scalata partendo dall'arena più bassa per arrivare a quella più alta una volta che si raggiunge l'arena 1 che è quella appunto che sta in cima a tutte le altre si guadagnano mvp e l'utente che vincerà più round nell'arena 1 quindi di conseguenza quello che avrà più mvp sarà il vincitore della partita cosa molto importante da sapere che se durante lo scontro 1v1 nessuno viene ucciso vincerà ad ogni modo il giocatore che sarà nel lato counter terrorist il server bella zio invece è un fan competitive molto più competitive che fan in quanto questa modalità prevede il fuoco amico e la collisione e il guadagno per uccisioni che è quello standard in questo server vengono utilizzate le mappe del servizio attivo ma anche quelle del gruppo delle riserve e a breve verranno anche implementate delle altre mappe dal workshop l'ultimo server che è stato anche aggiunto da poco in sostituzione dell'FFA ossia del free for all di tutti contro tutti che non è stato molto apprezzato dalla nostra comunità è server kz questa modalità ha in pratica l'obiettivo di portare a termine dei percorsi molto ardui e per fare ciò noi dovremmo essere molto abili a saltare a fare gli air strafe che sono quindi quei movimenti che ci permettono non solo di girare a destra e sinistra in maniera più rapida ma anche di saltare molto più in lontananza rispetto ad un salto normalissimo ci sono punti che necessitano di bunny hop per essere superati ci sono dei punti in cui bisogna avere un'ottima padronanza degli air strafe del nostro mouse e della nostra tastiera e fra l'altro il nostro server è riconosciuto dalla comunità ufficiale di kz pertanto sarà nella lista dei server ufficiali quindi nel caso in un nostro server venga effettuato un record mondiale di fatto verrà registrato nell'archivio ufficiale detto questo ragazzi spero che questo video vi sia stato d'aiuto nella descrizione trovate tutti gli IP dei server e non dimenticate di aggiungerli tutti ai preferiti io spero che questo video vi sia piaciuto se si lasciate un bel mi piace iscrivetevi al canale di Counter Strike Italia e commentate questo video e noi ragazzi ci becchiamo nei nostri server e noi ragazzi ci becchiamo nei nostri server e noi andiamoci ciascontati Ecco What? e noi andiamoci po'dalene